Gentili telespettatori, buona giornata. A Roma un altro liceo viene occupato, il liceo Mamiani. Viene occupato perché gli studenti sarebbero contro il governo attuale. Io sono rimasto perplesso anche nelle altre occupazioni e io mi chiedo, questi ragazzi che vanno a scuola, ma chi è che gli dice che il governo è cattivo? Chi è che indottrina questi ragazzi? Perché loro vanno lì per studiare e io credo che non sia farina del loro sacco questo. Non credo proprio che sia farina del loro sacco. Io credo che ci sia qualcuno che gli fa vedere le cose sotto una certa prospettiva, spingendoli a fare questo. Anche perché se voi contrastate il governo, lo dovete fare con una motivazione. Perché dire noi siamo contro il governo Meloni, ma che cosa vuol dire? No? Che cosa vuol dire? È come dire io sono contro il mare. Perché? Eh, sono contro il mare. No? Dici io sono contro i treni. Perché? Eh, perché mi hanno detto che bisogna essere contro i treni. Ma sei sicuro? Eh sì. È giusto essere contro i treni perché mi hanno detto che è giusto così. Ecco, perché questo quarto liceo dopo Argan, Albertelli ed Enzo Rossi a Roma adesso viene occupato il liceo Mamiani nel quartiere Prati? Il collettivo auto-organizzato della scuola. Davanti all'edificio al Civico 30 di Viale delle Milizie si è recato il vicepresidente Ettore Licata. In queste ore verrà formalizzata la denuncia da parte dell'istituto. Altra giornata di proteste, quella di oggi nelle scuole della Capitale. Al liceo Visconti picchetto degli studenti per chiedere di attenzionare la questione dell'edilizia scolastica. Questo è già un motivo, l'edilizia scolastica, e va bene. E intanto cresce la fibrillazione dei collettivi studenteschi di altre scuole superiori in vista della manifestazione nazionale del prossimo 18 novembre, organizzata dalle reti degli studenti insieme ai collettivi universitari, in primis diretta a contrastare le politiche del governo di destra-centro a guida Meloni. Ma quali sarebbero queste politiche da contrastare? Un governo che è nato da 15 giorni, non ha fatto ancora praticamente nulla, ha detto faremo, ma non ha fatto nulla, a questi studenti del liceo che danno avrebbe arrecato questo governo? O che danno arrecherebbe in un futuro un governo, come lo chiamano loro, di destra-centro? Che è corretto? Questo non è un governo di centro-destra, ma è un governo di destra-centro. Anzi, io toglierei anche il centro, è un governo di destra questo, perché mi volete far capire che quei due personaggi, Salvini e Berlusconi, siano di centro? No. No, togli Salvini e rimane Berlusconi. Berlusconi di centro? Cos'ha di centro? Vive in centro? Vive in centro Roma. Eh, ma di centro che cosa avrebbe Berlusconi? Io non lo classificherei in nessun'area politica. Berlusconi voleva il Ministero della Giustizia, chissà come mai. Voleva il Ministero con le deleghe per la televisione, chissà come mai. Voleva dare un Ministero alla fedelissima Ronzulli. Bah! Ecco, secondo voi questa è una politica di centro? Voleva le dentiere e gli alberi, un milione di alberi, quando nel PNR ce ne sono quattro milioni di alberi. Quindi non sapeva neanche cosa promettere in campagna elettorale, ha promesso un milione di alberi quando nel PNR ce ne sono quattro di milioni di alberi. Questo vi fa capire tutto. Questo signore me lo definite un politico e un partito di centro? Io non lo metterei tra quelli NS, no, NC, non classificabile, non pervenuto. Chiamatelo come volete, chiamatelo il partito del milione di alberi, il partito della dentiera, il partito della delega alle televisioni, chiamatelo il partito ad personam, chiamatelo un po' come caspita volete. Pertanto i ragazzi vanno a protestare contro il governo di destra. Cari ragazzi, tanto so che l'udienza del canale è per il 50% dei 65 anni in su, poi ci sono del zero virgola qualcosa di ragazzi tra i 13-18 anni. Però, cari ragazzi, ragazze, o meglio, come dice il politicamente corretto, care ragazze, cari ragazzi, prima di protestare a vanvera, senza sapere neanche il perché, trovate una motivazione per protestare, una motivazione seria, con delle giustificazioni. Come si fa quando si crea una tesi? Date una giustificazione, date una tesi e provate a dare delle risposte. Provate a trovare delle soluzioni alternative, cioè valutate, perché fare sciopero, tanto per fare sciopero al posto che studiare, insomma, lascia il tempo che trova, il tempo passa, inesorabile, finisce il liceo, poi si trova che non riesce a coniugare neanche un verbo, e dice, cosa stavi facendo? Tu stavo occupando il liceo. Ah, e per cosa? E boh, chi si ricorda? Contro il governo. Ma quale motivo? Ma che ne so, era contro il governo. Ecco, Io vi ricordo, cari studenti, che il governo che c'è è stato democraticamente eletto all'interno della Costituzione delle leggi italiane. Non c'è nulla di male nel governo Meloni. Sono politici e persone elette dal popolo tramite delle elezioni democratiche di un paese libero, sovrano, all'interno di una comunità europea. Andare a protestare perché qualcuno democraticamente ha vinto le elezioni, scusate, ma non è molto democratico, eh? Scusatze è poco, scusatze è poco, ma non è molto democratico. Cioè dire che un governo democraticamente eletto non dovrebbe esserci, non è democratico. Cari studenti, alle prossime elezioni spendetevi per dimostrare agli italiani che le vostre idee di sinistra sono le migliori e vedrete che andrete a governare. Quindi non si protesta contro chi ha vinto le elezioni, ma ci si adopera per vincerle la prossima volta. Adesso sarete all'opposizione? Per cinque anni, quattro anni, un anno, starete all'opposizione. Preparatevi delle argomentazioni serie per le prossime elezioni. Oppure protestate, ma con delle argomentazioni. non protestiamo contro il governo di destra-centro. È un governo di destra, ma ha vinto le elezioni, non è salito al potere con un colpo di Stato. Non c'è un generale di corpo d'armata, Palazzo Chigi. Eh dai, su! Siate democratici, non antidemocratici. E poi, andate a studiare, dai. Eh? Che io li vedo all'università come sono i ragazzi. Non mi sanno neanche coniugare una frase con un verbo. Arrivederci a tutti. E grazie.